Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su PES 2021 con la Master League Allora, oggi ci aspetta SPAL, Inter e Chievo Tre partite su da carta, due facili e una molto complicata con l'Inter Però andiamo a iniziare a questo punto Allora, abbiamo la SPAL Oggi giocherei Eder, Malcom, Lozek Sì, potrebbe essere una formazione molto buona per affrontare la SPAL Poi nel caso che nel primo tempo dovessimo fare diversi gol Potremmo anche fare dei cambi per far rifiatare i giocatori che poi andranno a giocare contro l'Inter Quindi tipo Malcom, tipo Lozek Insomma Lo stesso Auschik per dire Ma nevica Nevica, sì, nevica Ottimo ambiente La neve a Monza La neve a Monza Cassata No L'avevo già vista dentro Mammanaggia Clero, l'avevo già vista dentro, ve lo giuro Ero già pronto a esultare Che poi Cioè Obiettivamente È uscita di 20 metri Quindi Che esulto, che esulto No, no No Mamma mia Fortuna che Fortuna che Petagna L'ha colpita veramente male Fortuna Perché Lì se Se facevi la prima in serio La potevi buttare dentro la palla Tranquillamente Grazie Petagna Grazie mille Auschik Z Ci prova Tiro Buono Buono Anche se il portiere ha parato abbastanza tranquillamente Però il tiro c'era Era abbastanza insidioso Bravo Mimmo 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 No, Mimmo mio però Mimmo Per Lozek Malcom Bravo Malcom Auschik Svernicia Bravo 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 Ah Goal Goal Insperato Insperato Eder 1-0 Monza 1-0 Monza Eder Bello C'è bello Se l'hai ritrovata lì Cross Ragazzi io farei dei cambi Malcom facciamo da riposare La prossima volta Mettiamo Wirst Oggi Oggi Cassata Un po' sottotono Mettiamo Che ci metto Fabregas E Non lo so Non lo so Ragazzi Non lo so Siamo David Silva Però Schick Dai proviamo Proviamo dai Purtroppo Non stiamo giurando Un gran bene Abbiamo avuto Quel gol Abbastanza Fortunoso Però Facciamo fatica Ad arrivare in porta In maniera pulita Facciamo una fatica Incredibile Mimmo No Vabbè Per Nessuno L'ha toccata Nessuno L'ha toccata Cioè Rimessa per loro Com'è possibile Che nessuno L'abbia toccata Questa palla Ma Fabregas Bravissimo Silva Eder 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 No Il portiere Si è superato Cosa ha parato Fabregas Una fallo No No Niente Attenti Alla ripartenza Aia Mamma mia Fortuna che questa Ha nei piedi quadrati Fortuna che c'ha Nei piedi quadrati Raga Fortuna Somma qua Era un casino Era un casino No Cosa fa Comunque questo gioco Aveva un po' di miseri Ma perché lui Era per Wirth Lozek Eder 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 Doppietta Doppietta di Eder Non so Fabregas Cosa abbia fatto Comunque questi Sono tremendi Dalla spalla In difesa Sono tremendi In difesa Sono tremendi Ma veramente tanto Comunque 2 a 0 Che la chiude Direi che ormai è chiusa Siamo quasi all'ottantesimo Sarà difficile che Che mi vadano a pareggiare Su Voglio essere positivo Per una volta Non smentitemi Mi raccomando Cica No Cica mio Però Cica mio Cica mio Dai Oddio Mi ha ucciso Fabregas Eder 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 Mi ha buttato a terra In maniera violenta Ma Io 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 No Bravo Mimmo No Fabregas Mio però Ancora Fabregas Bravissimo Fabregas No Era quasi passata Questa palla Non è giusto No No Ma Qualcuno che ci vada Non fate le statue Non fate le statue Niente Tutti fanno le statue Ragazzi Però Dai Ultima azione Finita È finita Silva Ma Era per Lozek Era per Lozek Questa palla Vabbè Va bene 2 a 0 L'importante Erano i 3 punti E i 3 punti Sono arrivati Quindi direi che Un bel Chi se ne frega Ci sta tutto In Napoli Ha pareggiato La Juve ha vinto Come sempre La Juve non molla mai Però in Napoli Siamo a 6 punti Quindi un distacco Comunque Non rassicurante Però che ci dà Buone speranze Ora La partita Delle partite Inter Monza Questa è veramente Complicata Cassata Cambio ruolo Staccano vista Che Va bene così Prossima partita Inter Monza Complicata Veramente Complicata Ma No Malcom Malcom Perché stai così male Perché Malcom Stai così male Anche Wirth Ma Ma è bruttissima Questa cosa È bruttissima Sono tutti stanchi Contro l'Inter No Contro l'Inter Non potete essere stanchi Raga Non si può Contro l'Inter Essere messi in questa Situazione tragica Tragica Sulemana Sulemana Da rigore Ha tranciato Vabbè Comunque Partenza col botto Partenza col botto Devo dire Sono abbastanza Soddisfatto Sulemana Subito sugli scudi Speriamo che Sia la sua partita Me lo auguro Ah Vai Bellingham Bellingham L'Inter In confusione Difesa dell'Inter Distrutta Cioè Ma come cavolo Ha fatto A A regalarci Questo pallone Difesa dell'Inter Inguardabile Parliamone Pure il portiere Boh Vabbè Così Abbastanza Imbarazzante Tutto ciò Ma a noi va bene A noi basta La vittoria Come sempre Quindi Che se ne frega No Se gli altri Non giocano bene Pellegri No Pellegri Che butta palla Sulemana No Non riesce a far gol Sulemana Non riesce a far gol Lozek Dai A uscic Per Sulemana Che era buonissima Questa palla Era buonissima Calcio d'angolo Io non ho messo ancora Le istruzioni Come sempre Ormai Mi conoscete E va così E va così E la storia Della mia vita Non mettere le istruzioni E la storia Della mia vita Ormai Bisogna farci L'abitudine Oh Ti ho visto Ti ho visto Pavlovich Lozek No vabbè Che cosa ha fatto Lozek Che Wow Sono abbastanza Sono abbastanza Stupito Che dire Inter in bambola Completamente Inter in bambola Non mi aspettavo Questa partenza Così Feroce Da parte dei nostri E abbiamo anche Diverse Diverse assenze Oggi Molto importanti Malcolm su tutti Eh Però Comunque La stiamo giocando Un gran bene Come questa cosa Mi fa veramente piacere Non è veramente tanto Bellingham Pellegri Oh L'hai visto L'hai visto Lozek No Bellingham No Bellingham Mio Peccato Me la son magnata io Questa cosa Me la son magnata io No No Mamma mia Il portiere c'è anche lui C'è anche lui Per Bellingham Ancora sulle mana Sulle mana No 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 Peccato La palla è rimasta lì Ma non siamo riusciti a buttarla dentro Bravo Schick Eh però Schick Sbaglia tutto Sbaglia Schick Figlio mio Ma come si fa Ha un Schick No 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 Ma che sfiga Che sfiga tremenda Che sfiga tremenda Veramente Non ci credo È davvero una bella serie di passaggi No Pellegri All'ultimo secondo Me l'hanno fregata No niente Oggi Oggi Non siamo molto fortunati Ha un Schick È un po' mano Comun Qua non ci sono i file di mano Vabbè Rigore No Un altro rigore Ragazzi È il secondo rigore In due episodi Ma l'hanno aggiornato PES L'hanno aggiornato Ma perché Vabbè Intervento da Da manicomio Però Allora Guida A un Schick A un Schick Ti prego Chiudiamola Eh quando mai No Non Non ci entra Non ci entra questa palla Non ci entra Ha smesso di entrare Si è stancata Sulle mana però Sulle mana Oh raga Raga Dormite tutti però Dormite tutti Erano in tre Davanti alla porta In tre La palla era davanti alla porta Ed erano in tre lì Nessuno ne aveva presa Dovremmo stare 4-0 Io non vorrei dire Con il minimo Vabbè Se ci recuperano Veramente io Chiudo tutto Chiudo eh Ve lo dico Ecco Mamma mia Fortuna che c'è Schubert Fortuna che c'è Schubert Che ci ha aiutato Sulle mana Eh vabbè però Figlio mio Figlio mio Per Mimmo Ottimo Oh subito Per Bellingham Subito No Bellingham mio però Niente Non riusciamo a segnare Io farei dei cambi Io farei dei cambi Assolutamente Ehi che ci metto Sanchez Però Bellingham Sta giocando molto bene Una volta che gioca bene Ed er per Lozek Fabregas Trequartista Così E Sanchez Mediano Così Giusto per far giocare qualcuno E Tanto Sono giocatori che sanno fare Bene o male Quei ruoli Non sono i loro ruoli Però Di sanno fare Su No vabbè Vai Vai Pietro Pietro è tua Pietro è tua No L'aveva ben incrociata Pietro Una volta Oh No Bellingham No vabbè però Che palle raga È incredibile È incredibile La sfiga che ci vuole oggi Non vogliono farcelo fare Dai dai Oh l'hai visto L'hai visto Oh rega però Non è possibile Non è possibile Protesto ufficialmente Protesto ufficialmente Cioè Come si fa Come si fa Ci saremo mangiati 5 gol Minimo Potremmo essere 7 a 0 Vabbè comunque Sanchez Bravissimo Ma perché sto passaggio Der Che cavolo Mi rappresenta Bravo Z Gestiamola Con molta calma Con molta calma Sulemana No Lo stop Troppo stop Questa era bella Lo stop Troppo stop Mi è piaciuto Anche a me C'è Pavlovich C'è Pavlovich Che non ci arriva Fortuna che Durante Durante Sbaglio Fortuna Fortuna Un po' di fortuna Ci vuole Direi che siamo Siamo In positivo Con la fortuna Visto che siamo Veramente sfortunati Oggi Soprattutto No 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 Ecco E' arrivato E' arrivato Il gol di Lukaku E' arrivato Loro tirano in porta Fanno gol Novantesimo Io propongo Una bella gestione Di squadra Tranquilla Gestiamo 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 Oh Vai Bravo Mimmo Pietro Dai Ottimo Ottimo Abbiamo vinto Una partita fondamentale Per lo scudetto Perché questa era Uno spartiacque Questa era davvero difficile E siamo lì Napoli ha vinto La Juventus ha vinto Basta Sta Juve Vince tutte Le vince Non è possibile Almeno Napoli Intanto ne perde qualcuna Ne pareggia qualcuna Queste Le vincono tutte Queste Le vincono tutte Allora Monza Chievo Allora Oggi Pellegri Malcom Torna Finalmente Lozek Però c'è Ibra Che è in forma Non mettiamo Ibra In forma Su C'è Ibra In forma Mettiamolo Mi sembra il minimo Per il resto Direi che Ci siamo Possiamo andare A giocarci Questa partita Che sembra Facile Potrebbe Sembrare Facile Ma secondo me Potrebbe Riservare Qualche Qualche Insidia Perché Quelle più facili All'apparenza Sono quelle che Te lo mettono più Dentro Avete capito Sanchez Per Williams Chievo Molto chiuso No Lozek Di quanto è uscita Di quanto è uscita Di pochissimo Mannaggia Mannaggia No Ma deviata No eh Peccato Sembrava un po' deviata In realtà invece no Per Malcolm Aucic No vabbè Che cosa ha fatto Malcolm assist E Aucic La butta in rete 1 a 0 1 a 0 Come giochiamo Come giochiamo ragazzi Abbiamo creato Un'intesa In questa squadra Che è meravigliosa Cioè Che robe Stop Stop Tiro Bello Bello Un quadro Veramente un quadro Lozek Ibra 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 No Malcolm No Aucic Il fallo di Ibra Mi dà ancora vendetta E Williams però era passato Un po' fallo Non vorrei dire Leggermente Vabbè Non è fallo Non è fallo Facciamo finta Che i falli Non esistano Mannaggia 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 Mamma mia Bene Bene È uscita Bene così Bene così Abbiamo rischiato tutto Abbiamo rischiato Ma è uscita Quindi Va bene Poteva andare peggio Teniamocene conto Aucic Per Malcolm Per Aucic Ma gliela è passata Raga Gliela è passata Gliela è passata No vabbè Gliela è passata Questo è il rigore A casa mia Ma che cazzo è successo Vabbè Non gliela è passata Però di solito Con questa cattività Doveva spaccargli Almeno le braccia Di base Ma dettagli Comunque Sembrava che Deve essere passata Però eh Sembrava un botto Vi giuro Bravo Williams Bravo Williams Sanchez Per Malcolm Ma c'è Ibra C'è Ibra E fallo su Ibra Ma Ma Malcolm c'è No vabbè No vabbè No che occasione Intanto questo è giallo Intanto Giusto per No Oh sei infortunato Come sta Ibra Come sta Ibra Dov'è Ibra No Non si è fatto niente Forse Me lo auguro Comunque Comunque Mettiamo gli attaccanti Per i calci d'angolo Intanto Però non dovrebbe Aversi fatto niente In teoria Speriamo Aushik Ah Brutto 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 Come il peccato Brutto 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 Aushik Bravissimo Malcolm Malcolm Oh l'hai visto Lo zec Di testa Il portiere La La para Aiuto Chiga Sanchez Williams Al volo Per Ibra Aushik No vabbè Cosa ha fatto Aushik La maledetta La maledetta D'Aushik Bellissima Voglio rivederla Voglio rivederla Ragazzi Scusate ma Non si può Non rivedere sta roba Come è scesa La palla Ma è che sto replendo Che devo sia Il massimo della vita Però Però come è scesa La palla Ammazza Bello 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 Sanchez No vabbè Ma di quanto è uscita Perché non riusciamo Al segnao Se quest'anno Facevamo Anche solo Il 40% Di gol Che avremmo dovuto fare Avremmo vinto Tutte le partite 10 a 0 Cioè È Veramente Una roba incredibile Ci mangiamo Tanti di quei gol Ma tanti Tanti No brutta Aiuto Aiuto Cosa fanno Questi Aushik Lozek Niente Ibra non ci arriva Mamma mia Che roba Che roba Dunque possiamo dirlo Chievo abbastanza Inguardabile Avevo paura Che ci fosse Il tranello Ma al momento Abbastanza Inguardabile Bravo Cic È vero No No Avevo appena Detto che Il Chievo Era inguardabile Fortuna che Era inguardabile Perché non mi sto Mai zitto Perché 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 Devo imparare A stare zitto Io Devo imparare A stare zitto No però Rega Aiuto Adesso Adesso È un problema Oh No vabbè Pavlovich Su Ma che dormi Ma chi è questo Dove va Oh Basta No Pavlovich Comunque È veramente Inguardabile Cosa fa Pavo Cosa fa No ci vuole Il culo Tecnica Ci vuole Ci vuole un difensore Che non sape Marcarti Come Pavlovich No vabbè Che porcata 2-1 Ho detto Mezza cosa Mi hanno purgato Subito Mi hanno purgato Bellingham Eder Per Lozek E poi non lo so Gustavo 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 Però insomma Mediteremo di più Sinceramente parlando Avesse non hanno fatto nulla Non hanno fatto Offensiva Offensiva Mania Sono distrutto Emotivamente Questo gioco Ha Ha la capacità Di distruggerti Tutti in 5 secondi È una roba incredibile Ibra 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 No vabbè Cosa ha preso Cosa ha preso Era una botta Incredibile Era una botta incredibile Cosa ha preso il portiere Non si può No No vabbè Dai Vada Auschik Per Pavlovich Che non ci arriva neanche lui Bellingham Bella palla per Z Vede Malcom Ancora Malcom Ma Peccato Peccato Non riusciamo a segnare Non riusciamo a segnare Stiamo giocando molto bene Ma ci manca il gol Ibra Ibra Eder Per Williams Ibra Non so cosa dire Non so cosa dire Sono sempre più distrutto Cioè E' una partita scriptata Come poi Qua cosa Si vede che è scriptata ragazzi Si vede un botto Si vede Ma noi non vogliamo C'è pure un fallo Ibra Niente Ma è vantaggio Eder Dove vai Eder Dove vai Il campo è finito Il campo è finito Ma qua dei Meggiorini Ma che Qui si giocano con Meggiorini Ci stanno battendo In una parola Dai Non posso perdere lo scudetto Per aver perso con Chievo Ragazzi Su Non posso avere Su la coscienza Questa partita Mi è male No Perché Ma chi gli ha detto A Ibra Di passare a Bellingham Chi gli ha detto Chi gli ha detto Chi gli ha detto Su Bellingham Eder E vabbè Aspettiamo un po' di più Eder a tirare Aspettiamo che poco coprano Quell'angolino Giusto per Far gol Facciamolo coprire Mi raccomando Tanto qua Dai Williams No Ibra Non ci credo Ibra Carola Cosa vogliono Quelli del Chievo Che stanno avendo Un culo del porco Cosa vogliono Eh un principio di rissa Cercherà sicuramente Il cross in mezzo Da qui Eh sai che non lo so A uscic Pavlovich Tammazzo Tammazzo Ma che cazzo è Pavlovich Vabbè Ultra offensiva Ultimi 12 minuti A cardiopalma E via Io sto impazzendo oggi L'ha vinto con l'Inter Dai Sì vabbè Su Su Veloci A uscic E vabbè Allora ditelo Ditelo Mi dite Guarda Non deve vincere Sono contento Ringraziarlo Per aver salvato Il vantaggio La partita Starlight Per terminare E quanto pare Questa volta Non riusciranno A conquistare Allarga Il gioco Con palloni A sinistra Ecco Dai ragazzi Su Ancora questo Ancora questo Mamma mia Sono tutti in attacco I miei giocatori Con qualcuno Che ci vada Basterebbe Una ripartenza Bravo Ibra Bellingham Marlovich No Malcom Mio No Vabbè Come Ma chi è questo Trova il compagno In ottima posizione Niente Non gliela si cava Non gliela si cava La palla Non gliela si cava Ho uscic Bellingham Bellingham No Bellingham Il passaggio Il passaggio decisivo Ha visto il pericolo Ed è riuscito ad anticipare L'avversario Fa avanzare l'azione Con il lancio lungo Dai Der Bravo Der Prova ad andare via Con eleganza La gioca all'indietro Oh è fallo È fallo Questi facciano comunque Facciano un bel po' Uffa Allora A uscic No 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 C'è raga Mi hanno perso Col Chievo Mi hanno perso Col Chievo Hanno fatto due gol In due minuti Questi Praticamente Mi hanno perso Col Chievo Ragazzi Vabbè Io 19 tiri a 5 Penso che oggi Dovevamo perdere Per forza Ragazzi Oggi dovevamo perdere Per forza Si era visto Si era visto Napoli ha vinto La Juve Ebbè Ebbè Quando mai perde Porca miseria Quando mai perde Quando mai Quando mai Quando mai Ma tanto faremo Come l'anno scorso Faremo come l'anno scorso Già lo so Già lo so Che nervoso Che nervoso Che nervoso Che nervoso Che nervoso Che nervoso Ragazzi Io Per oggi è tutto Allora La prossima volta Abbiamo la doppia sfida Con l'Atalanta E l'Europa League Con lo Sport in Braga Quindi Niente Ci becchiamo Alla prossima Ragazzi Ciao